L'iniezione di fiducia del mercoledì europeo e il gol rompighiaccio propiziato da Mauro consentono alla Juventus di presentarsi in versione più disinvolta del solito, affrancata da recenti complessi e una volta tanto padrona di casa di nome e di fatto. I bianconeri non avevano mai segnato nel torneo in corso al cospetto della loro curva Philadelphia. Tre tiri in porta e due reti, con lo stesso spietato pragmatismo del quale ha pagato le conseguenze il Napoli. I risultati si...